Dunque inizia una nuova stagione, inizia con nuove ambizioni come sempre naturalmente e con giocatori nuovi, la cosa forse più importante dal punto di vista tecnico. Beh sì, noi abbiamo ritenuto opportuno fare uno sforzo anche economico dopo la storica salvezza della scorsa annata, quindi fare uno sforzo e tesserare con noi due giocatori sicuramente di categoria superiore. Ringraziando Alessandro e Domenico Poerio e Mattia Simonetta che facevano parte della squadra l'anno scorso, diamo il benvenuto a Fabio Grillo e a Lorenzo Cavarretta che sono due elementi nei quali noi poniamo le nostre speranze di salvezza, di una salvezza anticipata rispetto allo scorso campionato. Il pericolo corso mi sembra di aver capito, se dice facciamo uno sforzo per soffrire meno tra virgolette. Sì sicuramente per soffrire meno e per approdare una salvezza anticipata ma sempre nel nome del divertimento e soprattutto nel nome della città di Crotone. Perché non vi dimenticate che anche noi ci vestiamo di rosso blu, lasciamo parenti a casa, moglie, mamme, fidanzate, figli e andiamo in giro per la Calabria fortunatamente perché ancora una volta il girone ci accoppia con delle compaggini calabresi e quindi nel nome della città di Crotone noi ci teniamo a fare bella figura. Chi sono i nuovi? C'è un bolognese-crotonese a quanto mi hanno detto. Sì sì sì, Lorenzo Cavarretta è la nostra punta di diamante insieme a Giancarlo e noi abbiamo ovviamente concordandolo con gli sponsor abbiamo fatto questo sforzo anche se il ragazzo assolutamente non ce l'aveva chiesto. Sarebbe venuto con piacere ma noi abbiamo ritenuto opportuno comunque di farlo questo sforzo economico e di tesserare Lorenzo che è già 3-1 come classifica quindi è già una classifica altissima, si appresta a diventare un seconda categoria e sicuramente ci darà una grossa mano insieme a Fabio Grillo che è un nostro amico, lo conosciamo bene, anche lui 3-2 quindi altissimo livello per quello che è poi il background del tennis calabrese e quindi ci apprestiamo a vivere queste emozioni.